Buonasera a tutte e tutti, grazie per essere qua. L'affollamento mi spiace per quelle persone rimaste fuori, è un tema di estrema attualità e per questo assieme al Circo dei Lettori come Università di Torino e come Cipeia, Società Italiana per l'Etica dell'Intelligenza Artificiale, abbiamo organizzato questa serie di quattro dialoghi sul tema intelligenza artificiale, in particolare l'intelligenza artificiale generativa esplosa negli ultimi mesi. Vogliono essere dei dialoghi interdisciplinari, non diretti a un pubblico tecnico perché il nostro scopo è quello di disseminare, far prendere coscienza al largo pubblico, agli diversi stakeholder delle opportunità, ma anche dei rischi che l'introduzione dell'AI porterà alla nostra società. Infatti questo evento è anche parte del progetto di public engagement dell'Università di Torino che si chiama AI Aware, che appunto ha come scopo organizzare appuntamenti come questi, informare tramite il sito web ai-aware.eu. Prima di introdurre i nostri ospiti e i nostri ospite, volevo dire due parole su perché siamo qua, cioè sulla causa, sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale che c'è stato in questi ultimi anni, ma soprattutto in questi ultimi mesi, praticamente da novembre, con l'apertura al pubblico di ChatGPT creata dall'azienda OpenAI. Sappiamo, come si racconta sempre, l'intelligenza artificiale nasce ormai negli anni 60 col famoso seminario del Dartmouth College, ma per i primi 60 anni, 50 quasi anni di età, si è focalizzata sull'idea di costruire dei sistemi che imitassero l'intelligenza degli esseri umani, imitando il modo di ragionare degli esseri umani. Quindi elaborando regole, cercando di creare sistemi che riconoscono le nostre lingue, cosiddette lingue vagi naturali, codificando le regole della grammatica, ma il successo è stato parziale. È stato utile dal punto di vista della scienza cognitiva per capire come funzioniamo, ma si è andato incontro più di una volta a causa delle promesse ai cosiddetti inverni dell'AI. E invece negli ultimi dieci, ma anche forse meno anni, si è sviluppato un nuovo paradigma, un nuovo modo di fare AI, basato su tecniche di apprendimento automatico. Quindi non partiamo dalle regole di cui abbiamo cognizione, cerchiamo di codificarle, partiamo da degli esempi, testo, immagini con la descrizione, i referti medici a partire da esami clinici digitalizzati. E la macchina apprende da solo. Questo paradigma è così chiamato delle reti neurali perché vagamente è ispirato al funzionamento del nostro cervello, in realtà ne sappiamo pochissimo di come funziona, quindi è proprio un'analogia molto vaga. Era già stato sperimentato negli anni Ottanta, ma aveva funzionato solo parzialmente. Il successo grande di questi ultimi anni è dovuto al fatto che sono disponibili ora dei super computer con decine di migliaia di processori specializzati per l'AI e la disponibilità di tonnellate di dati, che siano i testi sul web, le immagini di nuovo sul web e sui social network e i referti diagnostici di cui dicevamo prima, e tutto per di più in tutte le lingue. E questa combinazione di potenza computazionale ha permesso di creare tramite quello che si chiama Deep Neural Network, reti neurali profonde, cioè fatte di più livelli, di avere un enorme successo con, per esempio, in ambito diagnostico medico sistemi che, dato una immagine radiologica, riescono a riconoscere una patologia con prestazioni simile a quelle dei medici, ma soprattutto negli ultimi mesi con la cosiddetta AI generativa abbiamo avuto un'ulteriore esplosione. AI generativa vuol dire che, anziché classificare un'immagine o prendere una decisione, dare un prestito a una persona o meno, AI generativa, dato un nostro input testuale, una nostra domanda, crea qualcosa o una risposta, in qualche senso del termine risposta, e quindi nel caso di ChatGPT e gli altri Large Language Models di cui abbiamo parlato all'evento qua al Circolo dei Lettori del 17 aprile, che trovate anche su YouTube, se volete saperne di più, ma, oltre che il testo, anche con le immagini. Partendo dai miliardi di immagini sul web, pure descritti, si riesce ad avere sistemi in cui dici descrivimi, fai un dipinto, fammi un ritratto di una certa persona in stile Picasso e produce un'immagine più o meno creativa, ma di sicuro a un livello che potrebbe far raggiungere solo un artista o un designer professionisti. E quindi ci troviamo di fronte a un rapido sviluppo dell'AI che può avere un grosso impatto nella nostra società, quasi una rivoluzione. in realtà non è la prima volta che una tecnologia può portare, in questo caso in passato, ha portato una grossa rivoluzione a livello della nostra società. E volevo parlarne con Maura Gancitano. Buonasera Maura, filosofa, scrittice, che con Andrea Colamedici ha fondato Tlon, un progetto di divulgazione culturale che si manifesta attraverso una factory culturale, una casa editrice, attività di divulgazione, mescolando cultura alte e bassa, analizzando bisogni e significati del nostro tempo e mettendo in connessione l'ambiente accademico con il mondo pop, che è quello che vogliamo fare anche con questa serie di dialoghi. E la tecnologia a cui mi sto riferendo, che ha portato ormai tanto tempo fa a una rivoluzione, è la scrittura. E di questo parla Maura nel suo libro L'alba dei nuovi dei, da Platone ai Big Data. Il passaggio sembra enorme, sono più di 2300 anni, però l'impatto potrebbe essere simile. Sì, buonasera, grazie. In realtà, appunto, noi tra l'altro abbiamo presentato quel libro qui un paio d'anni fa con Derek De Kerkove, tra gli altri, quindi abbiamo parlato di comunicazione e di come cambierà. In realtà il sottotitolo di quel libro, L'alba dei nuovi dei, per noi doveva essere Da Platone al metaverso, però l'abbiamo scritto troppo presto, cioè è uscito una settimana prima che Facebook diventasse meta e quindi si iniziasse a parlare di metaverso, per cui giustamente appunto ci hanno detto ma che cos'è questo metaverso, perché lo volete chiamare così? Perché non parla tanto di appunto di dati quanto proprio di quello che stiamo creando, quindi di tutti gli spazi digitali che si stanno creando e sembrano inevitabili in questi anni. Ora, oggi parliamo non tanto di questi spazi digitali quanto di quello che le intelligenze artificiali sono in grado di fare oggi, ma la tesi di quel libro è un po' un'idea che è, come dire, un'idea narrativa più che altro, non ha uno status giusto scientifico, però in qualche modo può aiutarci a capire di fronte a cosa ci troviamo, è proprio il fatto che ci troviamo in un tempo che sembra piuttosto simile a quello che ha visto il passaggio dall'oralità alla scrittura e che ha visto la nascita della filosofia. Quindi un tempo in cui non c'erano più le certezze di prima, le stesse categorie che nasceva, come diceva Giorgio Colli, dalle braci di una sapienza che era bruciata, noi non sappiamo esattamente cosa è accaduto a un certo punto della storia greca, sappiamo che ci sono stati degli sconvolgimenti e sappiamo che a un certo punto è nata la filosofia, è nata la scrittura ed è cambiato proprio il modo di farsi le domande, il modo di ragionare degli esseri umani. Un cambiamento così forte da dare l'idea a uno psicologo statunitense Julian Jaynes di elaborare una teoria psicologica falsa e tra l'altro anche impossibile da verificare però sappiamo che è una teoria più che altro affascinante che quella del crollo della mente bicamerale perché lui sosteneva che gli esseri umani davvero avessero cambiato la loro struttura cerebrale e che prima fino al tempo dei poemi o medici gli esseri umani non pensassero di avere dei pensieri ma pensavano di ascoltare la voce degli dèi, cioè che quello che noi oggi chiamiamo pensiero in realtà per loro fosse la voce di un dio. Questa teoria è affascinante intanto perché ha dato spazio a narrazioni come Westworld che è una serie tv che parla proprio dell'immersione della coscienza degli androidi e quindi è interessante anche per ragionare su quello che sta accadendo ma la cosa curiosa è che da quella teoria di Julian Jaynes nasce un romanzo Snow Crash del 1992 di Lee Stevenson che è il romanzo in cui si parla di metaverso e quindi l'espressione di metaverso, l'idea del metaverso nasce esattamente da un romanzo che è collegato a questa teoria. Quindi l'idea è che a un certo punto gli esseri umani siano cambiati, abbiano iniziato a farsi delle domande e a ragionare per come lo intendiamo oggi e questo passaggio è un passaggio legato appunto anche alla nascita della scrittura che è stata molto criticata appunto anche da Platone. Dicevamo prima che ci si ritrova molto spesso per fare l'esempio di quello che Platone dice nel Fedro. Platone scrive ci sono arrivati quasi 40 libri di Platone eppure è passato la storia come il più grande critico della scrittura e però ci racconta proprio questa contraddizione. Cioè il fatto che Platone si fa delle domande sulla scrittura che sono simili a quelle che noi oggi ci facciamo sulle intelligenze artificiali soprattutto appunto l'intelligenza artificiale generativa e una delle domande riguarda le conseguenze. Quali sono le conseguenze su di noi? Come cambieremo noi come esseri umani? Il paradosso di Platone che forse è proprio legato poi all'intelligenza umana ma anche alle scelte che bisogna fare in certi momenti e che lui critica la scrittura e scrive tantissimo e se non ci fossero arrivati quei libri di Platone noi non penseremmo come pensiamo adesso, non avremmo certe idee, non penseremmo probabilmente che esiste un'anima, non avremmo una serie di convinzioni che sono più platoniche di quanto pensiamo se i suoi libri non fossero arrivati fino a noi. E quindi quello è un esempio ma c'è un altro aspetto cioè da un lato Platone si rende conto che sta accadendo qualcosa e quindi quello che lui compie, Platone in sostanza riscrive delle storie quindi quello che fa è anche inventare dei miti, criticare moltissimo quegli stessi poemi omerici quindi il modo in cui le persone venivano accompagnate, gli uomini ovviamente a quel tempo in particolare venivano accompagnati nel percorso di fioritura possiamo dire, lui critica i poemi omerici, inventa altre storie e in qualche modo cambia la storia, io di questo sono abbastanza convinta che davvero Platone sia stato uno di quei personaggi della storia, almeno insomma della eurocentrica diciamo così, che ha cambiato, che ha influenzato fortissimamente il nostro modo di pensare. Quello che fa però è operare tutto questo quindi scrivere anche se critica la scrittura, immaginare, creare delle categorie, costruire delle altre storie sostanzialmente da solo, cioè come autore individuale e di tutti questi cambiamenti non è che le persone al tempo ma neanche dopo fossero davvero consapevoli, quello di fronte a cui ci troviamo oggi è una necessità di tante persone di riflettere su quello che sta accadendo e la necessità che tante persone se ne occupino perché quello di cui stiamo parlando è un potere enorme, le intelligenze artificiali hanno applicazioni infinite e hanno potenzialmente degli effetti negativi, possono anche averne di positivi, dipende da come sarà distribuito il potere di decidere, cosa possono fare, che dati possono usare, come possono trattare i nostri dati personali ma anche il nostro diritto d'autore, come si potrà legiferare sulle intelligenze artificiali e quindi secondo me la cosa importante che vedo accadere oggi e che da che mi ricordo non è accaduta rispetto ad altre questioni che invece sarebbe stato importante discutere anche solo altri spazi digitali che oggi ci sembrano semplicissimi come i social network ma quello che oggi vedo accadere in tanti ambiti è il fatto che si sente il bisogno di parlarne tra persone che si occupano di temi molto diversi, hanno formazioni diverse ma anche proprio tra utenti perché abbiamo la sensazione che il cambiamento non è solo digitale, è un cambiamento umano, un cambiamento politico, economico e potenzialmente la possibilità di aumentare ancora di più le diseguaglianze. Siccome viviamo in un mondo diseguale in cui ci sono delle questioni che vanno risolte in breve tempo, per esempio quella del cambiamento climatico ma anche proprio questioni legate alla sopravvivenza delle persone, è essenziale che in effetti se ne possa parlare e a me in questi mesi capita di parlare in ambiti molto diversi. A volte con persone molto critiche, altre volte con persone entusiaste che non vogliono sentire parlare di alcun tipo di limite, in realtà nella maggioranza dei casi con persone che sono curiose e vogliono anche capire cosa sta accadendo e quindi sperimentano anche perché secondo me la cosa peggiore che si possa fare è parlarne e dare spazio all'inquietudine senza usare mai questi strumenti e capire in effetti cosa comportano. Nella maggioranza dei casi quello che vedo è che in realtà ci rendiamo conto che è necessario parlarne e farsi delle domande e quindi credo che la stragrande maggioranza delle persone non sia appunto queste domande abbiamo voglia di farle. Ultima questione è il fatto che appunto se al tempo secondo Julian Jaynes Achille non aveva i nostri stessi pensieri ma aveva la sensazione e poi Achille è il suo esempio, non è tanto Achille il personaggio che evidentemente con gli dèi ci poteva parlare però come dire quella persona immaginiamo al tempo dei poemi americi secondo Julian Jaynes pensava di parlare con gli dèi, in effetti anche noi quando ci relazioniamo con le intelligenze artificiali rischiamo di pensare di parlare con delle intelligenze soprannaturali, aliene e quello che dobbiamo tenere presente ed è per questo che è importante parlarne con chi si ne occupa e capire come funzionano è che l'intelligenza artificiale generativa non pensa e quindi quello che elabora appunto lo elabora in un modo molto diverso rispetto alla nostra intelligenza umana per cui è importante anche fare lo sforzo che è difficile ma che dobbiamo cercare di fare se vogliamo capire che cosa sta accadendo davvero di non considerare Gpt come un nostro amico che si ricorda di noi ogni volta che apriamo una nuova sessione o che capisce profondamente cosa gli stiamo dicendo come se fosse davvero un assistente a distanza ma quello che fa è un altro tipo di processo e quindi dobbiamo anche fare attenzione a tutte le proiezioni narrative che rischiamo di portare che come esseri umani siamo portati a considerare quindi un po' l'idea che di nuovo possiamo avere una risposta da parte di questi dei artificiali. grazie Maura intelligenza aliena è il termine usato da alcuni maestri di Go quando sono stati sconfitti da AlphaGo l'intelligenza artificiale che gioca a questo gioco da tavolo da scacchiera cinese che ha una complessità in senso matematico del termine molto molto più alta di quella degli scacchi perché non riconoscevano una strategia che avessero mai incontrato e tornando alla scrittura la scrittura nasce circa 5.000 anni fa con il cuneiforme dei sumeri non tanto prima non per scrivere ma per fare conto per tenere conto delle della raccolta delle delle tasse del grano e così via ma invece come fa chat GPT a scrivere o più di recente come te letto sui giornali qualche giorno fa parlare perché adesso si può interagire con la voce e ricevere una risposta parlate non solo scritta davvero quasi magico nessuno insegna a chat GPT a parlare chat GPT e tutti gli altri cosiddetti large language models non conoscono un'idea di cosa siano le regole della grammatica prendono più o meno tutto il testo che c'è sul web terabyte e terabyte in tutte le lingue e poi per ogni frase questi large language models giocano da soli è una specie di gioco di indovinello prendono una frase e che so il gatto mangia il topo dal data set questo per tutte le frasi in tutte le lingue tolgono una parola e poi tirano a indovinare e guardano il risultato il gatto mangia puntini puntini gatto mangia la mela no no non va bene controlla il risultato e prova a modificare questa immensa rete secondo tentativo il gatto mangia il cane vabbè il cane fatto di carne non va bene riaggiusti però non va bene comunque riaggiustiamo un po finché non trova il gatto mangia il topo bene si dà un premio da sola e ricomincia il gatto puntini puntini il topo e così per tutto quanto l'universo delle frasi scritte su internet in in tutte le lingue sto semplificando un po però l'idea centrale è davvero è davvero questa e come possibile che impari senza sapere le regole anche noi in realtà la maggior parte delle cose che facciamo le facciamo senza sapere come le facciamo che non possiamo parliamo bene e decentemente anche senza andare a scuola corso di logica del primo anno che insegniamo ai nostri studenti informatica serve per costruire circuiti digitali ma non per ragionare meglio ma soprattutto tutte le cose che facciamo andare in bicicletta camminare qualsiasi cosa non è che sappiamo come fare e come sapete tutti per andare in bicicletta nessuno ce lo può spiegare bisogna andare pedalare cadere finché non si impara questa cosiddetta conoscenza tacita che costituisce gran parte del nostro sapere il problema che è tacita nel senso che non siamo non ne siamo coscienti e non possiamo quindi esprimerla linguisticamente e questa capacità di gestire la conoscenza tacita è propria di questi sistemi di deep learning quindi scrivere riconoscere il parlato parlare guidare un robot avete presente tutti i video di boston dynamics che livello riescono arrivare robot con quattro anche ultimamente con due due zampe quindi questi sistemi ai basati sul cosiddetto deep learning folgono qualcosa che noi con la nostra razionalità non siamo capaci di cogliere cioè l'idea che noi costruiamo siamo capaci di costruire dei modelli del mondo raccontabili e usiamo per fare predizione non costituisce non ci permette non rappresenta tutta la conoscenza che che abbiamo c'è un mondo che va oltre la nostra possibilità di comprenderlo tramite dei modelli non solo dei modelli diciamo intuitivi ma anche dei modelli matematici da galileo in poi sappiamo che il libro della natura è scritto in un linguaggio il linguaggio della matematica e dove non arriviamo con i simboli della matematica diceva galileo ci aggiriamo in un labirinto scuro e questo lo sapeva anche anche isaac newton padre del legge di gravitazione universale scopritore della legge di gravitazione universale che diciamo il prototipo della scienza con quattro simboli prodotto delle masse fratto quadrato del della distanza per una costante si prevedeva sia come cadeva la famosa mela dell'aneddoto ma allo stesso tempo si poteva prevedere tutto il movimento dei corpi celesti che fino a qualche decennio prima erano considerati entità divine quindi estrema rivoluzione con la matematica riusciamo a predire tutto quanto capita nell'universo con qualche piccola discrepanza poi risolta da Einstein con la teoria dell'attività ma sono cose minori diciamo da quel punto di vista quella scala di grandezza ma sorprendentemente quando Edmund Alley altro astrofisico scopritore dell'omonima cometa ma soprattutto mentore e finanziatore di newton gli va a chiedere ma nell'ottanta nel 1682 passata questa cometa potrebbe essere quella passata 75 anni fa mi aiuti a fare i calcoli per capire quando tornerà e newton sembra la persona ideale newton per spiegare quando questo corpo celeste sarebbe tornato indietro e newton invece risponde a Alley no c'ho altro da fare come è possibile perché newton scopritore di questo paradigma della legge di una legge semplice che spiega tutto quanto l'universo sapeva che in realtà le cose sono un po più complicate perché una legge semplice può portare ai cosiddetti sistemi complessi la cometa mentre passa viene attirata anche da giove da saturno il problema che giove saturno si muovono e bisogna rifare i calcoli ogni istante per sapere qual è la traiettoria esatta ci metteranno un secolo per fare più o meno i calcoli esatti ma questo è un problema semplice su problemi più complessi con più corpi ancora celesti è tutto più complicato e quindi la nostra la realtà è molto più complicata anche se è diretta da leggi semplici e l'esempio prototipico di questa complessità è quello delle previsioni meteorologiche che nonostante i super computer sono sempre solo parzialmente affidabili tant'è che edward lawrence nel suo libro predictability ha espresso questa complessità con una frase famosa dice una il battito di ali di una farfalla in brasile scatona scatena un uragano in dove in texas è vero ovviamente è una sorta di iperbole in realtà però è quello che è vero che in questi sistemi complessi ogni elemento è causa di tutto il resto e gli effetti hanno effetto anche sulle cause abbiamo un mondo caotico e complesso e sembrerebbe che i sistemi di intelligenza artificiale basati su deep learning la sanno più lunga di noi nel fare previsioni già gpt impara da solo sistemi di diagnosi medica guardando milioni di dati di referti e milioni di migliaia di dati sullo stesso paziente incominciano a capire qualcosa in più di noi qual è bello qual è il problema il problema è che lo fanno senza avere un modello già gpt non sa le regole grammatica un sistema artificiale in medicina basato su deep learning non ha la più palle di idea di cosa sia una certa patologia semplicemente e riesce a cogliere meglio degli indizi delle sfumature che so su una lastra su un'immagine radiologica digitale indizi che noi non riusciamo non riusciamo a cogliere e quindi ci troviamo in un nuovo un nuovo scenario in cui abbiamo delle macchine che fanno predizioni migliori di noi perché colgono meglio la complessità del mondo ma allo stesso tempo almeno allo stato dell'arte ma forse è una questione di principio non ci dicono come hanno fatto queste previsioni e questa è una grossa una grossa novità torniamo quasi a degli oracoli dell'antica grecia in cui ci dicevano cosa accadrà con una certa probabilità ma non ci dicevano il il perché e per di più questi oracoli però non sono nel nel tempio di delfi o da qualche altra parte sono in mano a delle grandi corporation perché questi sistemi come hanno detto sono basati su macchine con decine di migliaia di processori e hanno bisogno di tutta la conoscenza tutti i dati possibili quindi predizione senza spiegazione si apre la porta anche a possibilità di inganno e lo chiedo a professoressa teresa numerico professoressa illogica e filosofia della scienza all'università di roma 3 si occupa filosofia della tecnologia politica dell'intelligenza artificiale nuova epistemologia digitale ed è autrice di vari libri l'ultimo del 2021 per carocci big data e algoritmi possiamo fidarci ma dunque dipende nel senso che quando all'inizio della grande cavalcata retorica intorno all'intelligenza artificiale l'idea era che appunto queste macchine fossero più affidabili di noi perché erano più precise quindi il digitale garantiva una maggiore precisione e le regole come giustamente diceva guido prima garantivano che gli esseri umani si sbagliano commettono errori le macchine invece questi errori non li commettono perché sono programmate per non commetterli sono macchine deterministiche quell'approccio là non ha funzionato perché queste macchine diciamo diventavano così difficili da programmare così difficile era così difficile per loro eseguire i programmi senza commette che non commettevano errori che alla fine erano montagne che partorivano topolini quindi in realtà si è ribaltata un po' quest'idea dell'intelligenza artificiale dicendo beh no non dobbiamo dire dire alle macchine come devono inferire come devono esercitare l'inferenza ma dobbiamo dire alle macchine come sta il mondo e così poi dopo attraverso il fatto di aver detto alle macchine come sta il mondo le macchine potranno poi organizzarlo ok quindi questo è un po' il ribaltamento che è stato anche a capo del grande successo di quello che lui ha detto il deep learning cioè quest'idea che noi dobbiamo trasformare il mondo in dati e poi mettere questi dati a disposizione della macchina e fargli fare number crunching che è quello che la macchina sa fare più o meno appunto ovviamente con un'organizzazione con una progettazione però l'idea era che la macchina dovesse fare da sé estrarre da sé che cosa i pattern cioè le regolarità quindi noi in realtà non gli diciamo come sono quali sono le regole per decidere come stanno le cose ma chiediamo alla macchina di estrarre regolarità dai dati che sono una possibile descrizione sul mondo qua poi bisognerebbe aprire una parentesi ma non lo facciamo adesso e ovviamente però se uno vuole mettere ordine tra i dati lo fa utilizzando degli strumenti statistici questi strumenti statistici ovviamente funzionano con tutta una serie di assunzioni sottostanti per esempio l'assunzione del mondo stabile cioè se io voglio sapere come saranno le cose in futuro a partire dai dati del passato ho bisogno di immaginare che questa regolarità nei dati che io posso estrarre dal passato si proietti anche sul futuro inoltre il giudizio diciamo il l'esercizio della statistica della teoria della probabilità non vale mai per i casi singoli ma sempre solo per le serie cioè ogni statistico avvertito dice che con i suoi calcoli nulla può dire sul prossimo passo di questa serie ma soltanto su come questa serie si comporterà nel tempo a partire da quest'assunto che il passato corrisponde al futuro è chiaro che questo tipo di ragionamento è forte però è meno stabile è meno sicuro delle regole della logica applicate dalle macchine quindi è evidente che noi dobbiamo accettare uno sfrido una possibilità che la macchina commetta errori perché sappiamo che per esempio gli algoritmi di predizione finanziari nel 2008 hanno dato luogo al crash vuol dire che hanno commesso degli errori piuttosto grossi perché ha fatto saltare l'intero sistema finanziario perché si è dovuto firmare tutto quindi se si fa una previsione sul futuro e questa previsione interviene a modificare il futuro perché in realtà chi esercita la previsione è un agente potente in realtà è possibile che la previsione del futuro non sia valida tanto o soltanto perché è buona ma più che altro perché chi esercita questa predizione è così potente da intervenire e quindi contribuire ad avverare quella previsione e quindi le cose sono un po' complicate questo per quanto riguarda l'intelligenza artificiale che si occupa di suggerire la presa di decisione automatica poi abbiamo invece l'intelligenza artificiale generativa che è quello di cui si parla oggi qui siamo ancora in un altro quadro un quadro nel quale questi dati sui quali la macchina si addestra sono i nostri testi perché in realtà la macchina comunque per poter capire la grammatica estrarre la grammatica ha bisogno di esercitarsi su tantissimi su milioni e milioni di diciamo di di frasi che poi tokenizza fa tutta una serie di operazioni molto intelligenti perché è veramente la capacità di intelligenza che sta dentro alla logica di programmazione di questi sistemi è indubitabile comunque a che fare con le persone che li programmano e poi ci sono tutti questi dati sulle quali le macchine si addestrano che sono dati testuali che hanno anche creato tutta una serie di mal di pancia per cui per esempio New York Times sta cercando di dire no non ti puoi esercitare sui miei dati alcuni scrittori Margaret Atwood dice no puoi utilizzare i miei romanzi per addestrare il tuo algoritmo e così via discorrendo ovviamente loro sono potenti e possono dire la loro contro un altro potere le altre persone comuni le loro chat sono comunque in pasto sono gli strumenti attraverso i quali questa intelligenza generativa si addestra ma c'è un punto che secondo me è molto importante sottolineare questa intelligenza esercitata a produrre discorso come quello che ha visto quindi come quello degli esseri umani e là ci stanno un sacco di bullshitting cioè le persone scrivono un sacco di cavolate in rete ma anche non solo in rete pure dentro ai libri e però la capacità di esercitarsi e di estrarre regolarità della macchina non è anche in grado di discernere tra le stupidaggini e le cose sensate tant'è vero che poi loro dicono eh la macchina ogni tanto c'ha le allucinazioni ma non c'ha le allucinazioni la macchina fa number crunching sulla statistica testuale e quindi risponde a diciamo risponde una risposta statistica alla tua domanda il prompt il grande successo di questi nuovi sistemi large language models in nuova di ultima generazione diciamo perché da tanto che si cerca di fare quest'operazione però chat gpt è riuscita per due ragioni una la dirò nel secondo intervento la prima la dico ora ed è questo attention is all you need che è un articolo scritto nel 2017 di un tra l'altro uno che lavorava per google che ha detto noi non dobbiamo cercare a caso la probabilità dobbiamo dobbiamo concentrarci su alcune alcuni token che sono principi che sono più importanti per esempio il prompt conta moltissimo per fare la valutazione della probabilità quindi vuol dire che questo ha permesso prima di tutto di allenare la macchina con un costo computazionale molto inferiore a quello precedente e poi anche di ottenere dei risultati molto più efficienti un pezzo di intelligenza indubitabile questo attention is all you need lo potete trovare in rete facilmente ma il punto è che questo non ci risolve il problema che la macchina dice quello che legge cioè sciocchezze e cose che non sono sciocchezze come si fa a distinguere sono gli esseri umani che devono distinguere ma perché dovrebbero distinguere se gli abbiamo detto che le macchine sono i più intelligenti degli esseri umani gli esseri umani hanno bisogno tendono a trovare risposte là dove guardano e proprio sono sono programmati per così dire per questo infatti noi nelle nuvole vediamo le forme le nuvole non hanno le forme perché noi tendiamo a dare senso ai segni che ci appaiono e quindi il pezzo mancante diciamo rispetto all'impresunta intelligenza delle macchine lo mettiamo noi noi siamo parte del quadro non solo perché siamo parte del quadro ma di questo parlerò nel secondo intervento perché ci sono un sacco di persone che servono per far funzionare questi sistemi ma anche perché noi che li utilizziamo ci mettiamo la nostra tendenza o tentazione di credere che se qualcuno ci risponde a tono magari anche in voce allora quello fa la stessa cosa che facciamo noi non fosse altro che per il fatto che da millenni e millenni quando si parla cioè le persone che parlano pensano anche e mi fermo qua grazie Teresa i computer diventano più intelligenti di giorno in giorno e se vi scrivete una mailing list su i generativa ogni giorno arrivano 20 novità e noi nel frattempo il paleoantropologo del Dartmouth College Jeremy De Silva ha recentemente scoperto che il nostro cervello si è ridotto del 10% era circa un litro e mezzo e il problema è da quando si è ridotto non da quando c'è i computer come ci potremmo immaginare ma da circa il 5.000 avanti Cristo questa data l'abbiamo citata 5.000 5.000 anni fa scusate questa data l'abbiamo citata già prima con la nascita della scrittura ma la scrittura era funzionale a un'altra cosa la crea la nascita di grandi società con gli imperi mesopotamici quello egiziano abbiamo il passaggio da piccoli villaggi in pochi anni a imperi che raggiungeranno i milioni di persone e quindi a Pietro Jarre che è un ingegnere geoambientale che c'entra che ha fondato varie imprese di consulenze che seguono interventi di bonifica per le trasformazioni urbanistiche in tutto il mondo è qua perché si occupa dell'impatto ambientale sociale delle tecnologie digitale con l'associazione slow web di cui siamo fan digital digital ethics forum e con il corso sull'impatto del digitale al politecnico quindi diventeremo più intelligenti o meno chi lo sa penso proprio di no nel secondo intervento parlerò di chi sta diventando più intelligente fra macchine esseri umani e soprattutto di chi sta diventando più stupido e con quale velocità adesso tu mi hai chiesto di parlare un po' più di degli aspetti diciamo di come ci cambierà a noi e come ci sta cambiando io vorrei parlare non solo dell'intelligenza artificiale che è l'ultimo baby nato l'ultimo parto dell'industria ma di come ci sta cambiando tutta l'industria digitale con con i suoi prodotti perché sostanzialmente l'impatto dell'industria digitale è data ormai da molti decenni e mentre nei primi anni diciamo agli anni 50 interessava militari poi poi gli istituti di ricerca e poi alla fine del secolo gli uffici è diventato un fenomeno di massa ci ha coinvolti tutto con l'invenzione del dello smartphone e con il di la galleria internet e poi dell'e-commerce e così via importante capire che sono vent'anni che abbiamo questi prodotti sulla nostra tavola qual è la conseguenza io sarò un pochino meno un po scorretto diciamo io non sono un infedele io credo nelle tecnologie digitali ho iniziato a usare nel 77 programmando con metodi numerici eccetera eccetera e continuando poi a comprare da microsoft sistemi per decine di milioni all'anno sistemi che davano delle grandissime illusioni e enormi delusioni e conosco appunto quelle aziende la silicon valley eccetera ma non sono un infedele sono un eretico e rivendico il diritto ad essere eretico rispetto alla cultura dominante che col vento da ovest prevalentemente per ora ci sta ci sta schiacciando come stiamo cambiando il mondo è diventato molto più piatto molto più piatto qua siamo al circolo dei lettori leggiamo molto meno di una volta non sto a fare statistiche a snocciolare dati eccetera non ho bisogno di convincervi se pensate diversamente siete liberi ovviamente di pensarlo complessivamente leggiamo molto di meno pensiamo meno capaci di leggere non capiamo quasi più nulla questo discorso che siamo circondati da complessità sì è vero però però basta guardare le cose un po da lontano e magari si capiscono lo stesso se non entriamo in tutti i dettagli ma vediamo tutto abbiamo disposizione strumenti che per cinque ore in media al giorno ci tengono a loro incatenati l'ultimo libro di juan carlos de martin che ha fondato nexa centrosi di studio su società internet a torino vent'anni fa fa un racconto molto bello dice è partita come una rivoluzione la democrazia la conoscenza per tutti ha inventato il personal computer che è libero selvaggio modificabile poi la rivoluzione ha cominciato a virare ed è diventata qualcos'altro e ci è arrivato lo smartphone non rivoluzionario predeterminato impossibile da riparare da cambiare ogni due anni è ancora rivoluzione ci tornerò vediamo tutto ma il nostro tempo di attenzione è diminuito drammaticamente da ingegnere io vi chiedo qual è il limite per tempo che diventa infinito di una funzione che continua a dimezzarsi ogni pochi anni il limite è zero quando il nostro tempo d'attenzione sarà zero noi saremo tutti pesci rossi altro che macchine eppure il tempo d'attenzione sta continuamente ancora adesso diminuendo quindi è vero che il cervello forse diventa più piccolo ma il nostro cervello rettiliano così leggo dai neuroscienziati sta diventando un po più grande perché i messaggi i pixel che si muovono sugli schemi il fatto che noi in continuazione anziché delle lettere vediamo delle lucine che si accendono e si spengono ci colpiscono qua ci dicono attenzione pericolo quindi ci sono tanti cambiamenti il cambiamento più violento secondo me è che noi ormai accettiamo qualunque puntini puntini arrivi dalla silicon valley da quelle vacche che sono delle cash cows che crescono al sole della california e noi adesso siamo qua a parlare di intelligenza artificiale e qua sarò duro io non sono sicuro che fra un anno ne parleremo ancora perché magari ci metteranno sotto il naso un'altra puntini puntini tre anni fa era il metaverso due anni fa era Alexia che doveva essere il paradigma che ci cambiava tutto quanto e poi gli avatar e poi questo e poi quello adesso ci abbiamo l'intelligenza artificiale generativa intelligenza artificiale generativa in polemica con Elena l'eventale del circolo dei lettori diceva di queste tre parole l'unica che secondo me non va discursa è artificiale ma intelligenza generativa scusate il gesto con le mani sono due parole su cui bisognerebbe fermarsi voi avete detto sono azioni intelligenti eccetera ma io penso che qua nel fatto che noi adesso accettiamo tutto accettiamo anche che un gruppo di cowboy usi un linguaggio antropomorfizzante e ci parli di sistemi che capiscono di sistemi che diventano intelligenti che parlano mettono di fianco calcolano ma il calcolo non ha nulla a che fare con l'intelligenza l'intelligenza è la capacità di prendere delle decisioni giuste in fretta in assenza di dati intelligente è l'uomo che uscendo dalla caverna vede un pezzo di bosco in fiamme e decide di farne qualcosa ne muoiono qualche migliaia prima che ci sia quello abbastanza intelligente da savassandir intelligente l'uomo sapiens sapiens che alla glaciazione di 30 mila anni fa è sopravvissuto nella misura del 5 per cento oggigiorno sarà di fronte alla catastrofe climatica ne sopravvivono 400 milioni io personalmente sono convinto che sopravviveranno quelli che non hanno lo smartphone perché gli altri accettano tutto gli altri si stanno adeguando gli altri hanno imparato a delegare ho finito guido l'abbiamo imparato a delegare in questi anni io non dico che colpa di ma è significativo che i due fenomeni siano andati di pari passo la restaurazione neoliberista che ci ha portato via molti dei diritti conquistati col sangue durante il novecento si è accompagnata con la nostra progressivo disinteresse all'informazione alla partecipazione politica alla vita attiva perché ci fa molto più godere passare due ore dietro chat gpt netflix qualche altra puntini puntini fa molto più godere sì bin chul han che è un filosofo coreano tedesco da seguire dice c'è poco da fare noi siamo stati sedotti e se non parliamo di questa seduzione ora che cosa dobbiamo fare dobbiamo ricominciare secondo me a ragionare come 50 60 anni fa abbiamo incominciato a ragionare sulle magnifiche novità delle tecnologie c'era la plastica c'era l'acciaio c'era il carbone per tutti qualcuno nel 72 ha cominciato ad alzare la mano dice ma qual è il limite di questo sviluppo abbiamo alcuni di noi vecchi hanno lottato per un ambiente più pulito abbiamo ottenuto i detersivi biodegradabili adesso dobbiamo ottenere il digitale biodegradabile perché come siamo cambiati siamo diventati tutti degli enormi consumatori di energia senza rendercene conto enormi sprecatori di dati i data center che si continuano a costruire in tutto il mondo consumano suolo acqua aria energia elettrica poi dico ma si fa con l'energia alternativa cavolo l'energia alternativa deve servire a far andare i tram e gli asili nido non dei data center che sono piedi dei nostri gattini ho finito grazie pietro torniamo indietro a di nuovo a 5 6 mila anni fa com'è che dopo 300 mila anni da quando è comparsa la specie umana improvvisamente da piccoli villaggi si passa in poche centinaia di anni a imperi di milioni di persone secondo lo storico israeliano yuval harari il motivo è un'altra rivoluzione cognitiva che ha preceduto la scrittura circa probabilmente 20 mila anni fa non è l'invenzione della tecnologia che ci ha permesso il successo come specie lo faceva già l'uomo habilis due milioni e più di anni fa non è la capacità di comunicare gli animali parlano molto più di quello che pensiamo ma è la capacità degli esseri che gli esseri umani a un certo punto hanno sviluppato di parlare pensare di entità fittizie che non esistono gli animali parlano solo di quello che c'è sta arrivando il leone gli esseri umani da 20 mila anni fa hanno cominciato a immaginarsi delle realtà che non esistono e quindi hanno cominciato a creare dei miti hanno creato del hanno creato le religioni e che diventano strumenti di coordinamento hanno creato poi gli imperi che all'inizio nell'epoca sumerano basati sul tempio della divinità tempio che però era un'entità economica possedeva terreni impiegati schiavi raccoglieva tasse e così via non tanto diversa la cosa dalle corporation e dagli stati moderni di della stessa anche corporation sono entità fittizie non è che il una azienda la fiat aveva tempi era dentro mirafiori era mirafiori no la fiat è un'entità una corporation è un'entità che è fittizia che esiste solo perché tutti ne riconosciamo l'esistenza e questo per tutta la nostra realtà sociale il denaro non è un pezzo di carta è un pezzo di carta che è riconosciuto come avere valore e così via e tutto questo grazie al linguaggio è la nostra capacità di parlare in maniera collettiva di entità che non esistono e perché vi racconto questo perché lo storico Yuval Harari appunto si pone una domanda abbiamo temuto per anni nei film la distruzione del mondo a causa dei robot intelligenti invece il pericolo molto più concreto è quello che adesso con l'AI generativa si vada a colpire quello che lui chiama il sistema operativo della nostra società cioè questa realtà sociale costruita collettivamente grazie al linguaggio grazie alla nostra capacità di immaginare entità che non che non esistono e questa costruzione realtà sociale è fatta grazie appunto al linguaggio al discorso pubblico alla cultura quello che leggiamo quello che vediamo ma d'ora in poi una una quota sempre più grande di questo di quanto leggeremo di quanto vedremo sarà creato da delle entità artificiali parleremo con delle entità artificiali credendo che sono degli esseri che siano degli esseri senzienti come ci diceva Teresa saremo alle prossime elezioni nei prossimi due anni circa due miliardi di persone andranno a votare e andranno a votare ricevendo parte delle informazioni da dei sistemi AI in mano a non sappiamo bene chi e quindi si aprono davvero degli scenari imprevisti ci eravamo preoccupati finora della fine del mondo per colpa di Skynet come nel film Terminator invece forse sarà molto più subdolo il problema verremo scalzati manipolati dalla possibilità di dirigere il discorso pubblico di dirigere la realtà la realtà sociale e per di più questi sistemi AI non nascono da nulla come dice la dice Kate Crawford in Atlas of AI non sono né queste macchine non sono né intelligenti né artificiali perché non sono artificiali perché sono basate nella loro creazione sul lavoro di noi esseri umani e quindi chiedo a Teresa di spiegarci l'entità di questa situazione sì dunque maura prima ha parlato di questa questione della scrittura che tanto ha atturbato i sonni di Platone che poi appunto ha fatto questa scelta ambivalente ma in realtà noi abbiamo vissuto un'altra rivoluzione dell'esternalizzazione della memoria diciamo alcune tecnologie secondo alcuni tutte le tecnologie in parte comportano un'esternalizzazione della memoria perché tu se inventi la ruota devi comunque anche inventare anche spiegare a chi verrà dopo di te come farla e quindi quello comporta una diciamo un'esternalizzazione della memoria che è la procedura per realizzare l'oggetto però ci sono alcune tecnologie che sono specificamente dedicate all'esternalizzazione della memoria appunto la scrittura prima i graffiti la scrittura ma anche la stampa la stampa noi abbiamo appunto vissuto cioè sappiamo abbastanza bene che cosa in occidente in Cina no ma che cosa in occidente ha comportato l'invenzione della stampa l'invenzione della stampa insieme con altre tecnologie il telescopio la matematizzazione della geometria e alcuni strumenti per la navigazione hanno comportato la nascita della scienza moderna e la nascita degli stati moderni processo che poi si è concluso con l'illuminismo e quindi la rivoluzione industriale ma anche la rivoluzione francese ok quella la stampa è stata uno strumento di riorganizzazione del potere perché chi era quello che poteva validare la verità la chiesa ovviamente si arrogava questo diritto e bisognava sapere interpretare il libro come ha detto giustamente guido poi galileo dice no c'è un altro libro più importante che è quello della natura ed è scritto in caratteri matematici oppure tutto ciò che noi possiamo sapere di quel libro è scritto in caratteri matematici non sappiamo bene com'era cos'era che volesse dire ma il fatto era che ci voleva un expertise diverso per leggere il libro della natura rispetto alla bibbia e quindi là c'è un passaggio di potere c'è un passaggio di potere rispetto a chi ha il diritto di validare le conoscenze che servono va bene quel passaggio di potere appunto ha creato la società così come la conosciamo la rivoluzione scientifica la rivoluzione industriale in mezzo il colonialismo vorrei segnalarlo perché è collegato non sono sconnesso è vero l'uomo si scopre al margine dell'universo però comunque è il capo della terra quindi va lì siccome quegli altri non le sanno queste cose le sottomette però questo lo voglio dire così è un passaggio non c'entra con il nostro discorso ora che cosa sta succedendo posto che il digitale effettivamente e l'intelligenza artificiale che ne è diciamo uno strumento è un passaggio della possibilità di esternalizzare la memoria se non altro per il fatto che mentre la scrittura ha bisogno come mediazione degli esseri umani perché tu ci puoi avere le macchine tipografiche che fanno il libro ma poi quelle macchine non è che leggono il testo invece qui abbiamo un sistema che scrive ma anche legge e soprattutto governa quei dati meglio o peggio degli esseri umani diversamente allora che cosa succede cosa potrebbe succedere per esempio una proliferazione di contenuti che nessuno mai più può leggere e che può quindi validare come si valideranno tutti questi contenuti che saranno prodotti a milioni e milioni dagli strumenti artificiali generativi chi saprà dire chi quale di queste parole quale di questi contenuti è utile e quale invece è carta straccia o bit stracci non lo sappiamo perché nessun essere umano sarà in grado di controllare quella roba no tom hanks dice non so se l'avete visto in questi giorni ha detto guardate che c'è il deep fake di me che fa la pubblicità al dental care io non centro niente e quello è un inizio se ne è che un debù potremmo dire perché in realtà noi e lui è comunque sempre ancora una volta una persona importante che può segnalare e sottrarsi all'essere oggetto di questa mimesis ma in realtà tutti noi non possiamo farlo almeno che a meno che non ci sia una presa di coscienza e una trasformazione quindi posto che noi la validazione della conoscenza per noi è fatta da testi scritti no noi quando insegniamo all'università allo studente che deve fare la tesi di laurea per laurearsi tutti gli strumenti di validazione della conoscenza passano per la testualità scritta ma se questa testualità scritta in realtà può essere mimeticamente riprodotta da un dispositivo artificiale socio tecnico come si farà a continuare a validare la conoscenza dei singoli e voglio fare una postilla su questo perché noi diciamo non leggiamo più uno scritto il problema e questo ovviamente è un problema però in realtà c'è un problema c'è un problema più più grande più forte perché la lettura e la scrittura sono tecnologie molto difficili che cognitivamente costano tantissimo e tuttora metà della popolazione mondiale non legge e scrive e sopravvive se però noi cioè quella lettura e scrittura comunque ha è intervenuta a modificare chi siamo cioè noi come sapiens siamo quello che siamo perché leggiamo e scriviamo anche perché leggiamo e scriviamo e perché abbiamo tutti questi strumenti di esternalizzazione che sono parte integrante noi non è che ci stanno gli esseri umani e le tecnologie gli esseri umani sono in tessuti di tecnologie all'eroa curano l'ha detto bene non c'è sapiens senza selce la selce è quello che ha reso il sapiens il sapiens quindi noi non possiamo dire cosa c'è c'è ci sono questo sta diciamo trasformando l'essere umano ma come vogliamo governare questa trasformazione politicamente perché sia qualcosa che possa re internalizzare le nostre capacità perché ci aiuti a vivere meglio ci aiuti a vivere nel pianeta e non a distruggerlo e invece contrasti con quelle prassi quei processi che invece tenderanno a esaurare gli esseri umani e soprattutto prima di quello a distruggere il pianeta quindi forse eliminare gli esseri umani sarà un modo per evitare di distruggere il pianeta chi lo sa forse questa è una strategia diciamo potrebbe essere una strategia di lungo periodo dei diciamo di questi sistemi sociotecnici l'ultima cosa che voglio dire riguarda la questione dell'intelligenza artificiale artificiale appunto sono d'accordo che parlare di intelligenza sia perverso per certi versi ma la cosa che dice touring che dice alan touring nel 50 che è uno dei pionieri diciamo dell'intelligenza artificiale è tra 50 anni o poi dopo dice in una trasmissione della bbc tra 100 anni noi cambieremo avremo così cambiato il nostro concetto di intelligenza da includere quello che fanno le macchine all'interno di questa famiglia di significato e questo è quello che sta succedendo il problema è che noi dobbiamo politicamente orientare quello che vogliamo delegare alle macchine di fare perché magari lo fanno meglio di noi e quello che invece vogliamo tenere per noi perché appunto giustamente si diceva prima quello che conta è prendere la decisione le decisioni quando si prendono non si possono neanche valutare perché comunque ci servirebbero sistemi controfattuali noi non abbiamo un sistema controfattuale per valutare se ci siamo sposati con la persona giusto o sbagliata quella è la decisione che abbiamo preso e da lì poi possiamo divorziare ma non possiamo retroagire retropensare se avevamo fatto bene o male e la presa di decisione è quello che conta e se vogliamo lasciare alle macchine la presa alle macchine ecco e voglio dire quest'ultima cosa sulle macchine che non sono macchine ci sono almeno 100 milioni di persone forse di più questa è una stima approssimativa ma a ribasso che lavorano per i sistemi di intelligenza artificiale sono esseri umani esseri umani di alto livello che hanno il phd che programmano esseri umani di bassissimo livello che sono sottopagati che fanno il data entry che fanno diciamo il controllo il debunking dei dati cioè diciamo evitano per esempio che dentro a questi questi corpora di testo ci siano troppe parolacce eliminano discorsi sessuali eliminano tutta una serie di discorsi che gli è stato detto di eliminare e poi vi voglio segnalare che il grande successo di chat gpt è legato a questo reinforcement learning by human feedback che è uno strumento cioè che è un pezzo dell'addestramento che è fatto da esseri umani di alto livello che quindi stanno negli stati uniti e sono sono laureati hanno almeno laurea al college oppure il phd e che fanno revisione della testualità che intervengono valutano sulle risposte danno delle risposte quando la macchina non capisce e quindi in realtà questa intelligenza se intelligenza vogliamo parlare molto spesso è artificiale artificiale cioè è composta da un patchwork di intelligenze umane che si sono esternalizzate messe al lavoro e frammentate dal sistema complesso. Grazie Teresa Quindi da un certo punto di vista siamo al servizio dell'AI la creiamo grazie allo sfruttamento del lavoro e ci ringrazierà andando a impattare sulla costruzione della realtà sociale. Torniamo a Pietro cosa succede se continuiamo a delegare all'AI e alla tecnologia? Grazie e volevo soltanto condividere con voi un dato che ho imparato l'anno scorso da una delle ragazze che lavorano a Wikipedia e sostanzialmente diceva che meno di un terzo delle voci su Wikipedia non si riferiscono sostanzialmente ai bianchi anglosassoni e Wikipedia è il posto migliore del web a detta di molti. Punto. Cioè per ora chi ha in mano il potere e chi l'ha avuto e chi l'hotel re sono i bianchi americani sostanzialmente e una parte di loro. Io sono stato molto attento perché abbiamo parlato di potere in diversi punti e abbiamo citato diverse rivoluzioni interessanti perché sono delle rivoluzioni industriali che sono quasi solo tecniche ma poi in realtà hanno le loro ricadute nel come si struttura la società eccetera chi tiene il potere come il potere è cambiato se l'ha preso in mano la chiesa con la scrittura non so se si è cambiato tanto il potere rispetto a prima probabilmente sì. Col di Cittale chi è che ha preso in mano il potere e che prima non ce l'aveva? Io 30 anni fa facevo consulente a livello mondiale per la società petrolifere, le sette sorelle and company. Era una società che fatturavano 100, 200, 300 miliardi di dollari all'anno che sono un decimo di quello che fattura, di quello che capitalizza, che capitalizza Apple sono metà o un terzo di quello che fatturano le big tech. Le petrolifere ormai sono seconda classe, le mineralie, le ugly minds sono molto ancora di un ordine di... hanno preso il potere delle persone, dei gruppi tanto diversi da prima? Bah! Morozov e molti altri parlano appunto di un acceleratore del liberismo e io sono d'accordo con loro, cioè è una rivoluzione ma è una rivoluzione sicuramente enorme sulle nostre abitudini, su tutto quello che abbiamo detto prima, forse sulle prospettive che abbiamo ammesso non concesso che questi giochini come la i generativa abbiano davvero poi un futuro, adesso ci torno, ma la cosa fondamentale insomma non è che c'è stata una Maria Antonietta che hanno tagliato la testa, un Napoleone che è venuto dopo, Kerensky, Stalin eccetera, no, è stata una restaurazione, quindi è una rivoluzione, no? Citavo prima PC e smartphone, è interessante, è una rivoluzione che continua a presentarsi molto democratico eccetera, è un pugno di ferro dentro un guanto di velluto e noi facciamo fatica, facciamo una fatica tremenda soprattutto nelle lontane province dell'impero come l'Italia a capire questa cosa, noi siamo ancora lì che ci affanniamo e pensiamo che basti digitalizzare un sistema burocratizzato, faraginoso, barocco come il nostro per arrivare nell'era moderna, l'Italia sta perdendo colpi su colpi da questo punto di vista, ma questo è un altro discorso. Come fare politicamente Guido? Io comincerei col dire che noi abbiamo bisogno di alcune aziende a partecipazione pubblica che inizino a produrre dei servizi e dei prodotti digitali in concorrenza con le big tech. Io voglio la possibilità di fare delle conference call, delle videochiamate si chiamano adesso, su una chat, su un oggetto che si chiami chat.eu, fatto dall'Unione Europea. Perché in Europa siamo ancora così timidi? Le ragioni sono tante, ma non c'è nessun ostacolo dal punto di vista tecnico. Perché il Politecnico, che tre anni fa usava un suo sistema indipendente di didattica, è arrivato il Covid, ha ricevuto qualche consiglio da Microsoft e adesso sono tutti sui sistemi delle big tech. Perché i nostri nipoti, i nostri figli hanno studiato in questi anni di Covid usando e imparando a dire Google prima di imparare a scrivere griglio? Ammesso che qualcuno glielo insegna ancora. Perché? Questo deve cambiare. Ci va un'iniziativa pubblica, mi dispiace, suona statalista, suona fascista, suona stalinista, non mi interessa. Il pubblico deve anche entrare in concorrenza. A Torino per esempio abbiamo il CSI, il CSI ha sviluppato dei sistemi email eccetera, ma poi è stato spazzato via dalle big tech. Chi lo vede il CSI dalla Silicon Valley? Ma chi lo vede? Primo. Secondo, sui prodotti e servizi digitali dobbiamo incominciare a pretendere, come abbiamo incominciato a pretendere negli anni 70 per le infrastrutture, i porti, le raffinerie, le mele, le pere e i succhi di frutta, che qualcuno controlli questi prodotti prima che vengono messi sul mercato. Quando parlavo prima di accettare, come siamo cambiati? Noi adesso accettiamo che la logica commerciale americana sia parte della nostra vita quotidiana. Cioè si alza un cowboy ubriaco che si inventa un detersivo che se toccato dalle bambine di sette anni le fa mettere incinta. Nessuno verifica questa cosa, noi ci compriamo quel detersivo e poi anni dopo scopriamo che abbiamo il talidomide, abbiamo malattie eccetera eccetera. Ma questa cosa è inaccettabile. L'industria digitale è diventata un'industria globale che ha avvicato tutti i confini e questo ha a che fare col potere, ha a che fare con gli imperi. Sono le piccole conseguenze nefaste di una globalizzazione fatta un pochino. È un muro di berlino che è caduto molto troppo velocemente eccetera eccetera eccetera. Ma la conseguenza è che noi, mentre siamo protetti, cioè questa bottiglia d'acqua non può contenere delle lucertole, della plastica, della microplastica eccetera. Perché? Perché c'è un ente certificatore. Quell'autostrada che facciamo fra Torino e Lione eccetera è soggetta a una valutazione di impatto ambientale. Ci sono degli abitanti che dicono, delle mamme che gridano. Questa cultura della partecipazione collettiva pre-mercato l'abbiamo persa. Perché? Perché in America non funziona così. In America si dice tu puoi mettere sul mercato quel che vuoi e chi non lo vuole opt out. Ma la nostra cultura giuridica è completamente diversa. Ah ma forse è questo che sta proprio cambiando. Ed è su questo l'intervento politico nella difesa di alcuni principi giuridici. Guardate che il Sud America, il Canada, la Cina stanno guardando all'enorme sviluppo di legislazione europea che noi abbiamo. Noi abbiamo tante leggi e sono ottime perché non abbiamo un'industria digitale, by the way, che se non ci tirerebbe la giacca. Ma è un altro discorso però ce l'abbiamo. Quindi cosa fare? Beh ci sono un po' di cose da fare. L'ultima cosa che dico è stupidità. Chi vincerà la gara? Diventeremo noi capaci solo di calcolare e non di sentire e non di solidarietà. Libertà, egalità, fraternità ce le dimentichiamo. Diventeremo solo capaci di calcolare e quindi usare un algoritmo per dare un mutuo. Usarne un altro per cercare la nostra sposa. Usarne un terzo per decidere se fare l'amore alla sera. Diventeremo questo? Quando ne parlo con dei giovani, loro mi dico è ovvio, ma secondo me ci stiamo già arrivando. Allora se questo è vero, non sono le macchine che diventeranno intelligenti come gli uomini, ma sono gli uomini che diventeranno stupidi, mi permetto questa parola, come le macchine. Quindi è vero che avremo un'intelligenza. Turing aveva ragione e questo potrebbe essere il vero modo con cui l'umanità si estinguerà. A me non fa paura. Grazie Pietro. Io ho una parte della risposta del perché il pubblico sul digitale è in difficoltà, perché il pubblico non può espropriare i dati delle persone, non può espropriare tutta la conoscenza che c'è sul web. Sono un pubblico e se parliamo, abbiamo appunto uno dei prossimi appuntamenti dopo creatività, informazione, disinformazione. Perché se poi ti fanno entrare con lo speed, lì diventa molto complicato. Quindi si sta creando un mondo in cui non solo c'è una simmetria di potere, di ricchezza, ma anche una simmetria di conoscenza, perché qualcuno ha dichiarato tutta la conoscenza del mondo propria, che ci sia il copyright o meno. E dove non c'è il copyright vuol pure cambiare la legge sul copyright dicendo che non serve il permesso esplicito dell'autore. Come sarà questo mondo, Maura? Allora, è molto difficile. Cercherò veramente di rimanere in pochi minuti, ma ci sono tantissime cose da dire. A questo punto mi sembra che la cosa importante sia appunto spostarsi su un piano più politico, perché poi è quello che spaventa. Ma credo tra l'altro che appunto, avendo anche ascoltato altri interventi della professoressa Numerico, insomma, siamo molto d'accordo su questo. Nel senso che quello che spaventa è il fatto che appunto è lo strapotere ed è il fatto che questo strapotere, che è uno strapotere neoliberista, che non ha freni e che si basa ancora sul pregiudizio che alla fine, purché si vada avanti, va tutto bene, mina effettivamente le categorie del liberalismo, le categorie fondamentali delle democrazie liberali. Sappiamo benissimo, qualunque libreria è piena di libri sulla crisi della democrazia liberale, ma effettivamente ci sono delle questioni su cui è molto difficile anche solo legiferare. Se vi ricordate, all'inizio del 2020, Facebook stava, forse addirittura anche un po' prima, stava per lanciare una moneta libra, poi il progetto è stato accantonato, però quello che io pensavo era proprio il fatto che un social network, una piattaforma privata, faccia una moneta. Già esistono ovviamente monete digitali e sono un ambito di grande speculazione e di grande opacità, ma il fatto che si possa fare moneta è una, come dire, in qualche modo mina proprio l'idea di sovranità monetaria delle nazioni o per esempio l'Unione Europea. Quindi queste questioni sono fortissime e queste questioni alla base hanno proprio la questione del potere, cioè il fatto che se noi vivessimo in un mondo in cui le persone cercano, si domandano cosa è giusto fare per aumentare il bene comune e quindi si fanno delle domande prima di fare le cose, probabilmente le intelligenze artificiali si integrerebbero in modo armonico nel nostro sistema, le informazioni anche sull'impatto ambientale sarebbero di pubblico dominio e quindi potremmo anche inserirle senza quelle conseguenze negative. Il problema è che invece sappiamo che viviamo in un mondo in cui sempre di più e questo processo è partito in particolare dagli anni 80 fino ad oggi, poche persone si arricchiscono moltissimo, tantissime persone si impoveriscono e la disparità e la simmetria di potere, potere sui propri dati, potere di conoscenza, potere anche nel decidere quali saranno i cambiamenti umani è una questione grandissima perché appunto questa egemonia che fino a qualche decennio fa era più facile da descrivere, oggi è molto più complessa, è molto più difficile capire appunto chi avrà quel potere di validazione, il problema è che probabilmente questo potere sarà sempre più legato al potere di mercato, quindi alla fine alla base la questione è una questione di diseguaglianza, è una questione economica ed è una questione che poi diventa politica e giuridica, cioè effettivamente questa cosa appunto è accaduta già negli anni passati quando si è parlato di discorsi di odio, quando si parla di privacy, quando l'autorità garante per la privacy in Italia ha sospeso, cioè a GPT per qualche settimana sembrava quasi una posizione reazionaria, ma che cosa fate? Ovviamente la maggior parte delle persone usava un VPN, quindi faceva il giro e lo usava lo stesso, in realtà quello lo scopo era proprio di tutelare e di capire, che poi se uno va a vedere semplicemente chiarire qual è il trattamento dei dati, ma è anche questa difficoltà, è anche una velocità diversa nel cercare di legiferare e di tutelare i dati delle persone, quindi poi alla fine la questione è legata sempre al potere umano, c'è qualcosa però su cui vorrei sottolineare, perché ci sono delle teorie che ci dicono che in realtà noi non diventeremo super calcolatori, è proprio il contrario, quello che ci sta succedendo è che stiamo diventando super sensoriali e questa sensorialità si muove anche negli spazi digitali, c'è un bel libro di Valentina Tanni che è un'esperta di arte e si occupa anche di estetica digitale che è uscito poche settimane, forse un paio di settimane fa che si chiama Exit Reality, che parla proprio di questo, cioè del fatto che per esempio molte persone cercano una fuga dalla realtà e addirittura il raggiungimento di stati non ordinari di coscienza, non più attraverso la meditazione, le tecniche spirituali, ma attraverso delle sensazioni che arrivano dal web, addirittura l'idea di fare sogni lucidi attraverso uno script che ti scrivi e che evidentemente, come dire, a noi fa pensare a qualcosa di completamente artefatto e completamente artificiale, ma questa cosa sta succedendo. Ecco, secondo me la cosa importante è non creare delle separazioni tra chi ha capito e chi è sveglio, sempre è stato pericolosissimo, tra chi ha capito e chi è sveglio e rifiuta del tutto certe cose e chi invece ci sembra che non abbia capacità critica. Io credo che tante persone si stiano facendo delle domande, queste persone vadano ascoltate e le posizioni possono essere molto diverse, perché in qualche caso è anche un privilegio il fatto di poter scegliere di non usare certi dispositivi o che posizione assumere rispetto alla propria vita e quindi secondo me le posizioni sono molto più complesse di così e la cosa importante da fare è che se Platone, ed è ovviamente un artificio anche narrativo, ma se Platone due millenni e mezzo fa ha scelto da solo quale secondo lui doveva essere la soluzione o se la coine dialecticos è stata diffusa tra le persone al tempo di Alessandro Magno senza che le persone potessero scegliere se volevano usarlo oppure no, oggi noi possiamo parlarne e secondo me la cosa importante è ascoltare posizioni differenti, perché è molto più complessa di così la questione, nel senso che appunto chi si occupa, chi usa gli strumenti dell'intelligenza artificiale per fare arte o per cercare altri stati di coscienza può sembrarci stupido, ma in realtà semplicemente avendo un'altra prospettiva delle cose che potrebbe non essere del tutto sbagliata, quindi quello che io vi invito a fare è osservare, approfondire, per questo vi consiglio anche un libro che parla di tutte altre cose, ma cercare di fare quella cosa che dice Francis Scott Fitzgerald che è l'intelligenza umana, cioè tenere insieme idee contrastanti, è forse questo che dovremmo fare in questo momento, cioè pensare di tenere insieme idee contrastanti, non pensare che ci sia un alternativo o l'altra e che le persone poi possano avere solo una prospettiva, quindi a me, io come dire, leggo moltissimo Bjorn Culan e Mipia, ma come Jürgen Habermas che è un altro meraviglioso demonizzatore del digitale e sono delle posizioni importanti, secondo me però dobbiamo anche darci delle posizioni più complesse di così, ascoltare generazioni diverse, cercare di capire come ci vogliamo stare e non separare l'aspetto tecnico scientifico e informatico dall'aspetto umanistico e dall'impatto sociale, è una sfida importante, questa sì che ci richiede tantissimo sforzo, ma è anche una possibilità che prima non avevamo, cioè adesso possiamo fare un dibattito pubblico di queste questioni, quando è accaduto nel passato e questo è anche impegno politico secondo me, cioè significa anche cercare di capire cosa sta accadendo, per esempio rispetto al pregiudizio per cui non stampare una mail non consuma niente perché non abbiamo il pezzo di carta in mano, in realtà consuma lo stesso, ecco anche diffondere queste informazioni, cercare di capire qual è l'impatto del digitale e proprio a livello di sostenibilità ambientale che aumenta a una velocità, credo che raddoppi ogni anno, aumenta a una velocità incredibile, questa è una condivisione di informazioni che è importantissima e quindi per concludere con la questione del potere, viviamo in un mondo in cui il potere non è equamente distribuito ed è sempre più concentrato nelle mani di pochissime persone, ma non dimentichiamoci che il potere ci attraversa e quindi non consideriamo che l'unica posizione possibile sia tirarci fuori, la posizione secondo me importante è essere consapevoli di queste cose e cercare di dire il più possibile insieme che cosa ne pensiamo noi e che cosa vogliamo noi. Questo significa anche riflettere su quanto rischiano, perché rischiano di essere minati i principi cardine delle democrazie liberali e cercare anche di sottolinearli e questa secondo me è una partecipazione politica che è fondamentale ed è una partecipazione politica a cui secondo me sono interessate tante persone di tante generazioni diverse. Questo paese ha un grande problema col dialogo intergenerazionale perché i giovani vengono sempre giudicati, disinteressati, le persone più grandi vengono considerate fuori dal mondo perché non stanno sul pezzo. In realtà secondo me la grande possibilità è anche quella di parlarsi e di capire effettivamente che cosa c'è in gioco perché c'è veramente in gioco il futuro dell'umanità. Grazie. 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 Grazie.